Ben ritrovati cari amici al nostro appuntamento con lo studio del Catechismo della Chiesa Cattolica attraverso le domande del compendio. Quest'oggi affronteremo due domande, la prima più breve riguarda l'obbligatorietà della confessione dei peccati gravi, la numero 305, quando si è obbligati a confessare i peccati gravi, e la seconda sulla quale ci soffermeremo di più, la numero 306, perché i peccati veniali possono essere anch'essi oggetto della confessione sacramentale. La prima domanda sulla obbligatorietà della confessione dei peccati gravi la passiamo velocemente perché è un argomento che abbiamo già trattato lungamente, approfonditamente, per esempio approfondendo il tema della storia della confessione. Quindi ci atteniamo a quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica partendo da questa breve risposta del compendio Ogni fedele raggiunta l'età della ragione ha l'obbligo di confessare i propri peccati gravi almeno una volta all'anno e comunque prima di ricevere la santa comunione. È chiaro che l'età della ragione è quella legata alla capacità del bambino di essere consapevole di compiere il male, quindi di avere questa piena avvertenza e deliberata volontà che fa sì che la materia grave del peccato abbia anche un'adesione del soggetto, dell'individuo e quindi sia libero e anche consapevole di fare il male. Qui nel Catechismo della Chiesa Cattolica si parla più a lungo di questo precetto della Chiesa secondo il quale ogni fedele raggiunta l'età della discrezione è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati almeno una volta nell'anno. Colui che è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la santa comunione anche se prova una grande contrazione senza aver prima ricevuto l'assoluzione sacramentale a meno che non abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore. I fanciulli devono accostarsi al sacramento della penitenza prima di ricevere per la prima volta la santa comunione. Sono tutti aspetti e concetti che abbiamo già approfondito e quindi non mi dilungo quest'oggi su questa caratteristica vincolante della confessione almeno una volta all'anno per i peccati gravi e però passo subito al discorso dei peccati veniali. Nella scorsa puntata abbiamo approfondito bene il tema del peccato mortale soprattutto della materia grave del peccato quest'oggi vedremo e riprenderemo questo tema dei peccati anche gravi ma solo per riuscire a fare una paragone un confronto che ci permetta di comprendere meglio che cosa sono i peccati veniali cioè i peccati più leggeri. La domanda numero 306 del compendio recita così perché i peccati veniali possono essere anch'essi oggetto della confessione sacramentale e la risposta è questa la confessione dei peccati veniali è vivamente raccomandata dalla Chiesa anche se non è strettamente necessaria perché ci aiuta a formarci una retta coscienza e a lottare contro le cattive inclinazioni per lasciarci guarire da Cristo e per progredire nella vita dello spirito. Quindi peccati veniali che poi vedremo essere quelle mancanze quotidiane non richiedono necessariamente di essere confessati per ottenere il perdono però come vediamo la Chiesa raccomanda vivamente di confessare comunque queste colpe quotidiane questi peccati leggeri perché questa confessione ci aiuta a formare la nostra coscienza e ci aiuta a lottare contro le cattive inclinazioni che molto spesso moltiplicate portano a dei vizi a lasciarci guarire da Cristo e a progredire nella vita dello spirito e quindi nello spirito del Signore e nello spirito dell'amore è una specie di disciplina in questo caso la confessione che ci permette di tenerci allenati nel bene costantemente monitorando quelle imperfezioni che ci impediscono di conseguire con più entusiasmo con più adesione di fede di speranza e di carità alla grazia di Dio ricevendo più frequentemente attraverso questo sacramento il dono della misericordia del Padre siamo spinti ad essere misericordiosi come Lui anche verso i nostri fratelli quindi questo esercizio di ricezione della misericordia del Padre e di esperienza della misericordia di Dio attraverso la confessione ci aiuta ad essere più misericordiosi ed ora il Catechismo della Chiesa Cattolica su questo argomento cita Sant'Agostino dal suo trattato sul Vangelo di Giovanni dove Sant'Agostino dice che chi riconosce i propri peccati e li condanna è già d'accordo con Dio Dio condanna i tuoi peccati e se anche tu li condanni ti unisci a Dio l'uomo e il peccatore sono due cose distinte l'uomo è opera di Dio il peccatore è opera tua o uomo distruggi ciò che tu hai fatto affinché Dio salvi ciò che Egli ha fatto quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto allora cominciano le tue opere buone perché condanni le tue opere cattive le opere buone cominciano col riconoscimento delle opere cattive operi la verità e così vieni alla luce ecco qui in un condensato di sapienza potremmo dire quanto ci stiamo condividendo quest'oggi proprio sulla necessità di non tralasciare nella confessione anche le colpe più leggere benché non sia necessario confessarle perché questo appunto ci permette di crescere nella verità nella luce e nel bene e sul tema del peccato passiamo già agli approfondimenti quest'oggi volevo riprendere per prima cosa una testimonianza del cardinale George Pell tratta dal suo diario di prigionia voi sapete che il 7 aprile 2020 l'alta corte d'Australia si è espressa con decisione unanime per annullare un verdetto di colpevolezza ed emetterne uno di completa assoluzione nel caso Pell contro la regina ribaltando l'incompressibile condanna del cardinale per l'accusa di abuso sessuale storico e lui avrebbe compiuto molti molti anni prima secondo l'accusa la sentenza dell'alta corte ha liberato un innocente dall'ingiustizia dall'ingiusta detenzione alla quale era stato sottoposto lo ha restituito alla sua famiglia ai suoi amici gli ha permesso di riprendere in mano il suo importante lavoro nella è per la chiesa cattolica e durante tutto questo calvario il cardinal Pell è stato un modello di pazienza e di vita sacerdotale come testimonia quest'opera questo diario che vi invito ad acquistare a leggere perché è molto gustoso molto bello e fa bene anche alla vita dello spirito innocente egli era libero anche quando incarcerato e ha saputo mettere a frutto tutto quel tempo un prolungato ritiro come lo ha definito ressecurando i suoi molti amici in tutto il mondo e intensificando una già vigorosa vita di preghiera di studio e di scrittura tra le riflessioni che il cardinal Pell approfondisce in questo primo libro del suo diario di prigionia ce n'è una proprio riguardante il concetto la nozione di peccato che lui scrisse nel 22 maggio 2019 e che voglio condividere con voi perché ci aiuta ad introdurci proprio in questo tema sull'importanza di acquisire questa nozione del peccato per vivere meglio noi ma far vivere meglio anche tutti una volta che preso atto di questo peccato ci decidiamo a un cammino di conversione di riconciliazione col padre e con i fratelli e scrive il cardinal Pell durante la sua prigionia i malfattori che credono nel peccato nelle categorie di giusto e sbagliato conoscono bene il rischio che corrono quali siano le conseguenze delle loro scelte e sperano nella possibilità di pentirsi o quantomeno come ha fatto il buon ladrone sul calvario di affidarsi alla misericordia di Dio quanti invece rifiutano la nozione di peccato e di offesa contro Dio le categorie di giusto e sbagliato che negano l'esistenza di verità morali per intere aree della vita come per esempio il matrimonio la famiglia le questioni bioetiche e la sessualità spesso rivendicano il proprio diritto di abbracciare ogni possibile variazione nel campo della dottrina e della prassi e affermano contemporaneamente che quanti sostengono l'etica tradizionale per noi quella giudaico cristiana non hanno il diritto di dichiarare pubblicamente che alcune scelte sono intrinsecamente sbagliate vengono etichettati come bigotti ciechi ottusi anche se almeno per ora sono liberi di tenere queste opinioni a casa propria in generale i sostenitori dell'autonomia morale che Canelper definisce i darwinisti sociali cioè sono quelli che ritengono che esista un'evoluzione anche a livello morale e quindi un progressismo che poi alla fine è centrato sull'individuo come vedevamo l'altra volta non credono nella vita dopo la morte e rifiutano tali asserzioni come delle assurdità religiose pur continuando a offendere pesantemente chiunque affermi che la loro posizione morale sarà meritevole di una punizione divina dopo la morte il dibattito è almeno in parte fondato su un fraintendimento secondo la prospettiva cristiana nessuno va all'inferno semplicemente perché appartiene a un gruppo per esempio perché è musulmano omosessuale o ateo nessuno va all'inferno per caso o per ignoranza nessuno è condannato perché possiede una forte libido o è istintivamente meschino oppure perché ha la capacità di inventare e raccontare menzogne ciò che conta è l'utilizzo che facciamo delle nostre capacità come controlliamo le nostre inclinazioni e bernanti se la coscienza individuale non ha nessun primato perché una ignoranza cieca è comunque colpevole alcuni peccati a un certo punto ci hanno accecato hanno indurito i nostri cuori e soffocato le nostre inclinazioni al bene l'ignoranza e la confusione morale sono spesso reali e incolpevoli i sostenitori dell'autonomia morale dell'individuo possono cambiare idea possono mutare le proprie opinioni morali su una qualsivoglia questione ma non possono pentirsi né ammettere di aver commesso un errore senza perciò stesso accettare qualche norma oltre al proprio giudizio personale nazionale Itzi Fulò che non è cattolico avrebbe tratto beneficio come la maggior parte dei cattolici oggi dalla lettura del vecchio Penni Catechisme rivolto ai giovani che spiegava con chiarezza quali fossero i requisiti di un peccato mortale un peccato cioè che conduce alla morte che ci separa radicalmente da Dio e ci preclude il paradiso deliberato con senso piena avvertenza e materia grave il libro dell'Apocalisse e San Paolo offrono i passaggi forse più specifici all'interno del Nuovo Testamento su che cosa si debba intendere per materia grave tuttavia soltanto Dio può giudicare il cuore dell'uomo il suo grado di avvertenza e il livello di libertà e di consenso ecco mi piaceva citare questa testimonianza del Cardinal George Pell che ci ha lasciato pochi mesi fa subito dopo la morte di Benedetto XVI perché ci fa vedere come quest'uomo che pur imprigionato esprime una grande libertà interiore ci trasmette questi contenuti che stiamo vivendo e ci mostra come siano molto importanti anche se nel nostro tempo appunto il relativismo diffuso o il darwinismo sociale come lo chiama lui tendono a abbassare quel livello di attenzione e anche di comprensione di questi argomenti noi comunque li affrontiamo lo stesso perché sono un bene non solo per noi ma anche per la nostra crescita relazionale ecco il lavorare su di noi sulla nostra perfezione morale o santificazione per essere perfetti come perfetto il Padre nostro che nei cieli secondo le indicazioni di Gesù è un bene che facciamo a noi e anche al nostro prossimo c'è poi un altro interessante piccolo breve articolo che voglio citare che fu scritto dal compianto Monsignor Renato Tommasi mio professore di filosofia in seminario minore e quando scrisse questo articolo a parte di Bassano del Grappa proprio sul tema della confessione lui tene delle catechesi e sulla seconda catechesi che è pubblicata sul sito della diocese di Vicenza lui cercò di rispondere a questa domanda qual è il confine tra il peccato veniale e quello mortale e rispondeva a questa domanda con questa testimonianza se entro in un negozio e pago senza chiedere lo scontrino rubo qualcosa alla società è una piccola ingiustizia e non c'è proporzione con le enormi ruberie della corruzione dilagante è un peccato veniale ma se ogni volta che posso non chiedo lo scontrino o cerco tutti i modi per evadere ai doveri di giustizia quel gesto è ancora un peccato veniale capita che in famiglia si litighi e ci si tenga il muso per un po' ma poi si fa la pace è un peccato veniale ma se penso solo a me stesso e faccio mancare agli altri l'affetto litigare è ancora un peccato veniale e dunque legittimi chiedersi qual è il confine tra il peccato veniale e quello mortale a noi farebbe comodo una regola chiara e precisa in base alla quale misurare i nostri atti in modo sicuro e fare la lista per il confessore ma la risposta non è così ovvia anzitutto perché il peccato veniale e quello mortale sono spesso fatti della stessa materia quindi possono avere tutti e due materie grave una volta si imparava catechismo che per un peccato mortale ci vogliono materia grave piena avvertenza e deliberata volontà quindi la diversa gravità o pesantezza delle singole scelte è uno dei criteri ma non l'unico se io pongo sulla bilancia un grosso peso o se metto una quantità di piccoli pesi l'esito è lo stesso un altro criterio di differenza sono la diversa consapevolezza e volontarietà che noi mettiamo nelle azioni perché ci sono sempre di mezzo i limiti oggettivi della nostra condizione di figli di Adamo peccatore segnata dalla fragilità e dalla debolezza di fronte al male il temperamento i momenti di stanchezza o di nervosismo il trascinamento dell'abitudine ma anche questo un confine impossibile da stabilire in modo uguale per tutti per andare avanti nella vita ci vogliono invece un orizzonte a cui guardare e per cui credere nell'amore di Dio il confine tra la morte e la vita si fa dunque visibile nell'amore verso i fratelli come fioritura dell'amore di Dio che ci è stato donato mortale e non amare il peccato non è una violazione della legge per la quale il codice decide la colpevolezza in base alla diversa gravità degli atti esso è sempre una porta chiusa in faccia all'amore e quando possiamo dire di aver amato Dio con tutto il cuore e il prossimo come a noi stessi come ci chiede Gesù non basta usare il bilancino per distinguere il peso di quello che è veniale e di quello che è mortale la confessione è un momento di grazia nel cammino continuo della penitenza nel quale chiediamo misericordia per il peccato che è in noi con la volontà di convertirci e di camminare sulla via dell'amore e questo non è mai abbastanza perché l'amore propone sempre un passo più in là ecco mi piaceva molto questa bella testimonianza del compianto Monsignor Renato Tomasi che ricordiamo con tanta gratitudine e affetto adesso possiamo fare una breve pausa musicale nella quale ci dedichiamo all'ascolto di questo bel annuncio dell'amore di Dio il canto è davanti a questo amore proseguiamo adesso nel nostro approfondimento sul tema dei peccati veniali andando proprio nello specifico cercando di capire un po' quali sono questi peccati non esiste un elenco di questi peccati non ce n'è bisogno ognuno conosce i suoi suoi piccoli peccatucci quelle mancanze che compiamo tutti i giorni ma è interessante collocarli dentro un quadro di comprensione e di discernimento per il quale ci avvaliamo anche quest'oggi del sito Amici Domenicani sul quale come vi dicevo la scorsa puntata compaiono spesso domande inerenti questo tema della confessione del peccato dell'esame di coscienza e in particolare c'è questa domanda di uno dei follower di questo di questo sito nella quale Stefano si chiama chiede quando si commette il peccato mortale e il peccato veniale e chiede alcuni esempi e Padre Angelo risponde con alcuni punti abbastanza semplici diciamo per dare una risposta a questo amico e dice caro Stefano per compiere un peccato mortale si richiede la presenza simultanea di tre elementi materia grave piena consapevolezza della mente di liberato consenso della volontà questo è un concetto che continuiamo a ribadire ma qui lui cita anche Giovanni Paolo II che nel documento Reconciliace e Penitencia dice sia peccato mortale quando l'uomo sapendo e volendo per qualsiasi ragione sceglie qualcosa di gravemente disordinato quindi la distinzione tra peccato veniale e peccato mortale si basa ancora su questi tre elementi si compie un peccato veniale quando non c'è materia grave oppure se c'è non c'è la piena avvertenza della mente o il deliberato consenso della volontà quindi la materia può essere anche grave ma non c'è piena avvertenza di compiere questo peccato quindi diciamo che è un peccato grave ma non mortale perché non c'è l'adesione del soggetto della sua libertà della sua volontà a questa azione e continua Padre Angelo tralascio questi ultimi due elementi per circoscrivere la risposta al dato oggettivo cioè la materia come abbiamo visto l'altra volta i teologi distinguono tra materia sempre grave e materia generalmente grave nella materia sempre grave dal punto di vista oggettivo c'è sempre un peccato mortale senza eccezioni i teologi dicono qui non si dà mai parvità cioè esiguità piculezza leggerezza di materia nella materia generalmente grave vi può essere anche materia lieve e pertanto anche oggettivamente si tratta di peccato veniale si dà parvità di materia quindi va ricordata sempre questa distinzione che esistono dei peccati che toccano appunto i comandamenti che abbiamo considerato l'altra volta quelli indivisibili dove c'è sempre materia indivisibile cioè oggettivamente materia grave vanno sempre confessati anche se magari sono stati compiuti senza piena avvertenza e deliberata volontà mentre in quelli che hanno materia divisibile quei peccati inerenti comandamenti della seconda tavola della legge che hanno materia divisibile possono come abbiamo visto essere addirittura peccati veniali proprio perché manca la piena avvertenza e la deliberata volontà converrebbe comunque anche se non vi sono questi due se si rinviene che non vi siano queste due caratteristiche della soggettività del peccato quindi dell'adesione libera e volontaria al peccato sempre confessare il peccato quando esso avesse materia grave vi è sempre materia grave continua padre angelo e cioè oggettivamente si compie sempre peccato mortale quando le azioni si portano direttamente contro dio contro l'iperfezione divine oppure si oppongono direttamente alla virtù teologali come l'apostasia l'eresia la disperazione della salvezza con la presunzione di salvarsi senza merito l'odio di dio o anche contro la virtù di religione che ha per oggetto il culto di dio qui azioni intrinsecamente cattive sono l'idolatria il patto esplicito col demonio la bestemmia la violazione del sigillo sacramentale alcuni precetti gravi alcuni gravi precetti della chiesa vi è sempre materia grave anche quando si ledono valori così alti materia indivisibile per cui si compie una grave ingiuria verso il creatore per esempio peccati contro il quinto comandamento ossia del tutto al di fuori del progetto di santificazione voluto da dio peccati contro il sesto comandamento di lussuria volontaria sono peccati gravi nel loro genere pertanto ammettono parvità cioè leggerezza di materia quelli nei quali il male che si compie non corrompe il bene nella sua interezza qui si ha a che fare con materia divisibile c'è materia grave quando si lede in maniera sostanziale il bene del prossimo c'è materia lieve quando lo si corrompe solo in maniera leggera e vediamo alcuni esempi per esempio alcuni battibecchi all'interno delle compagnie o in famiglia alcune bugie per difendere se stessi le chiamavamo bugie bianche alcuni pettegolezzi piccoli furti che non danneggiano gravemente il proprietario e non creano squilibri nella società sant'alfonso dei liguori parlando dei peccati veniali deliberati scrive tali sono per esempio le bugie volontarie le piccole mormorazioni le imprecazioni i risentimenti di parole le derisioni del prossimo le parole pungenti i discorsi di stima propria quindi di vana gloria i rancori d'animo nutriti nel cuore ancora vi è peccato veniale quando ci si porta su azioni lecite ma in maniera non corretta secondo l'ordine morale si pensi ad esempio al mangiare o al bere più del necessario a una certa vanità nel vestire alla ricerca eccessiva dell'onore e della gloria da parte della gente al parlare troppo al darsi in maniera disordinata al divertimento nel rattristarsi o deprimersi esageratamente come se Dio non avesse cura di noi in conclusione c'è peccato veniale quando ci si porta su azioni di suo cattive ma che hanno parvità di materia cioè sono azioni sconvenienti cattive ma di materia non grave leggera oppure quando ci si porta su azioni lecite come per esempio mangiare ma in maniera non corretta secondo l'ordine morale mangiare troppo quando ci si porta su azioni che hanno materia grave ma che sono compiute con insufficiente avvertenza della mente o mancanza di pieno consenso della volontà questi peccati sono veniali non da parte della materia che resta grave ma per l'imperfezione dell'azione compiuta dal soggetto si è in grazia di Dio quando vi è piena amicizia col Signore e si compie la sua volontà questa amicizia viene spezzata quando si infrange volontariamente qualcuno dei suoi comandamenti in materia grave ecco mi pare che questo risposta che noi troviamo appunto nel sito degli amici domenicali pur essendo breve sia abbastanza esauriente per aiutarci a comprendere in che cosa consista il peccato veniale che come abbiamo visto fin dall'inizio di questa trasmissione non è necessariamente oggetto di confessione non dobbiamo non siamo obbligati a confessarlo ma è bene confessare anche questi difetti queste piccole mancanze quotidiane perché questa confessione ci aiuta a formarci nella retta coscienza e a lottare contro le cattive inclinazioni per lasciarci guarire da Cristo e per progredire nella via dello spirito nella via della santità ecco io anche oggi concludo qui la mia proposta e vi aspetto la settimana prossima nella quale approfondiremo il tema del ministro della confessione a tutti voi auguro una buona giornata ciao ciao